Sto per accompagnarvi in un viaggio incredibile e pazzesco all'interno del magico mondo dei rumor e delle voci di corridoio. Tenetevi forte, allacciate le cinture. Allora, nelle ultime ore alcuni siti stanno riportando questa indiscrezione che vedrebbe il film su Rey, annunciato da un po' di tempo, diventare a tutti gli effetti Episodio X. C'è persino un titolo, Star Wars Episodio X e New Beginning, che sarebbe di una banalità sconcertante, tipo da fanfiction, il che dovrebbe già capirvi dove stiamo andando a parare per quanto riguarda la credibilità. Prima di addentrarci nel merito della notizia in quanto tale, devo fare una premessa. Io un pochino. La mezza idea che questo film su Rey Skywalker possa diventare Episodio X ce l'ho, perché a livello commerciale avrebbe molto senso. Molto senso. E intitolare un film di Star Wars con questo nome pesante, Episodio, già porterebbe il progetto a diventare molto più interessante e forse avrebbero anche un miliardo già in saccoccia, perché comunque, cavolo, è Episodio X, non è Star Wars New Jedi Order, sarebbe Episodio X. Quindi io un pochino ci posso anche credere. Non con quel titolo lì, ma va bene. Però la notizia, adesso l'analizziamo, era già trapelata, se non sbaglio, nel mese di febbraio, per la prima volta diffusa dal sito Cosmic Circus, che sappiatelo, è proprio uno di quelli che di solito dice una cosa giusta su cento. A febbraio scrissero questo articolo che venne, nel giro di poche ore, contraddetto, se non sbaglio, persino dal sito ufficiale di Star Wars. Ci fu una comunicazione in cui si disse no, 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 non è Episodio X, qualcosa del genere. Quindi poi il tutto finì lì, a febbraio. Perché se ne parla adesso, a giugno? Perché Cosmic Circus è tornato a parlarne in un modo molto particolare. Perché su X, una delle persone che gestisce il sito, ha scritto questo post. è arrivato alla mia attenzione il fatto che due siti, Production List e This Insider, stiano dicendo che il prossimo film di Star Wars su Ray sarà intitolato Star Wars Episodio X e New Beginning, che è esattamente quello che vi avevamo detto a febbraio. A quel tempo c'erano arrivate delle comunicazioni che negavano la veridicità di quanto riportato, anche se noi pensavamo di aver ottenuto delle valide informazioni. Quindi si fanno vanto, tra virgolette, del fatto che aspetta, all'epoca ci dissero non è vero, state raccontando una fanfaluca, ma oggi a giugno ci sono due siti diversi che riportano la stessa cosa. Da una parte Production List e dall'altra This Insider. Quindi è evidente che se più siti parlano di un rumor, questo mano a mano acquista valore. Perché il devollo di turno comincia a leggere la stessa cosa su più siti. Perché fin quando è uno, vabbè, ma se cominciamo a moltiplicare, cavolo, adesso sono tre, This Insider, che a volte scrive anche cose giuste, oltretutto. Ma bisogna sempre andare a controllare. E questo è un insegnamento che vi voglio regalare. bisogna andare a leggerli, questi articoli. Perché, ad esempio, cliccando sull'articolo del This Insider, scopriamo che loro citano Production List. Quindi uno dei due siti menzionati cita l'altro. e già qui il potere della presenza della notizia su più siti viene meno. Perché uno di questi riporta quello che dice l'altro. E dunque This Insider lo togliamo. Perché non ha ottenuto un'indiscrezione privilegiata. Non ha ottenuto la notizia da una fonte specifica. sta riportando quello che dice Production List. E sapete Production List cosa riporta? L'articolo originale di Cosmic Circus. Quindi Cosmic Circus si sta beando del fatto che due siti stiano confermando la notizia prendendo però lo stesso Cosmic Circus come fonte. È un circolo che si autoalimenta Cosmic Circus da trasmette il rumor. Production List lo riporta This Insider lo riporta il rumor torna indietro e Cosmic Circus vi dice avete visto avevamo ragione. Avevamo ragione perché lo stanno dicendo altri due ma quegli altri due stanno riportando. è un serpente che si morde la coda è un loop. Quante volte succede? Quante volte? Tantissime tantissime quindi e lo so ve lo dico da anni ma recentemente ho visto un trend preoccupante sarà perché dopo il famoso sciopero abbiamo avuto poco di che parlare sarà che ognuno comunque deve procacciarsi il cibo e allora si fanno titoli a chiappaclick non lo so poi non voglio parlare della professionalità di altri voglio parlare di noi che recepiamo queste notizie e del modo con cui dobbiamo comportarci controlliamo sempre non fermiamoci i titoli leggiamo gli articoli e scopriamo anche quali sono le fonti perché se la fonte è sempre la stessa e non è credibile non importa che poi la notizia la stia riportando cito un sito molto importante in Italia bad taste è un esempio eh bisogna capire chi per primo ha proferito quanto viene rimbalzato da tutte le parti detto questo lo ripeto io un po' alla prospettiva episodio 10 ci credo ma non sulla base di queste indiscrezioni sulla base di una mia credenza personale che quindi non ha valore certo sono lo stesso che vi aveva detto guardate che Fantastici 4 non è sulla terra principale perché no ma non ha senso perché fare film ambientati da altre parti e forse Fantastici 4 non sarà sulla terra principale della Marvel però una ne azzecco e cento ne sbaglio come Cosmic Circus quindi anch'io non riportate le cose che vi dico come se fossero verità di fede finite male poi Cap al di là del simpatico giochino innanzitutto hai dato un hai dato un giusto insegnamento che ripeto siamo nel 2024 non voglio ne io ne penso Mattia ma tanta altra gente che magari fa contenuti di divulga online e mettersi su un più di stallo ma abbiamo una grande fortuna il fatto di saper leggere e che internet è ancora gratuito sotto alcuni aspetti non tante cose però è ancora gratuito diciamo quindi non c'è non c'è il fatto di dover pagare a volte per leggere un articolo alcuni articoli si altri meno quello che dice Mattia è giusto tantissima gente lucra fa un vero e proprio modello di business su questa tipologia di informazioni che sono semplicemente aria fritta nulla cosmico ora se dobbiamo fare così una provocazione una battuta o altro secondo me il prossimo prodotto che vediamo al cinema è episodio 10 né più né meno io vorrei tanto vedere altro vorrei tanto vedere qualcosa di diverso di staccarmi completamente da tutto provare a fare qualcosa di diverso ma non accadrà mai il fatto che Ray ci sia di mezzo secondo me conferma il fatto che vedremo sotto episodio 10 non mi entusiasmo minimamente l'ho già detto a me il personaggio non è che non è che mi sta antipatico no il prossimo no no ti parlo scusami random ti parlo di nuovo di episodi mica sarà un episodio quello è un filone esterno tra virgolette il prossimo film che dovremmo vedere quello che dovremmo vedere quindi utilizzo il condizionale quello su The Mandalorian sì scusate mi sono mi sono espresso male intendo della diciamo sacca canonica principale episodi sarà quello a me non non colpisce minimamente questa notizia anche se fosse vera perché lo do quasi per scontato da quanto è che esce fuori sempre questo nome direi rispetto a tanti altri prodotti che sono stati cassati cancellati dalla precedente gestione o comunque da questo da quest'ultima trilogia è un personaggio che secondo me vogliono giusto o sbagliato che sia se è chiaro io mi auguro che tra X tempo sia qui al Magiosky Show a dire film meraviglioso hype trailer bello informazioni stupende Ray mi compro l'action figure direi però in questo momento mi provo tutto questo quindi ma in generale su Star Wars ragazzi è una situazione molto preoccupante che ne parlavo prima della live con Mattia io sono nella situazione in cui mi esalto con un prodotto che evidentemente ai piani alti o anche forse al pubblico generalista non parla minimamente perché per me Star Wars ormai è Andor ma Andor non funziona minimamente a livello di grandi incassi eventualmente o attenzione mediatica speriamo che questi altri progetti andranno bene perché voglio bene la brand Star Wars ma neanche con The Alcolette per ora stanno parlando a me come appassionato o forse non sono più quel tipo di appassionato a mano in cuore mi hanno forse perso negli anni e quindi che dire secondo me ripeto non ci sarà nessun spin off su Ray come l'ego in chat secondo me sarà un nuovo progetto legato a Ray io qua diciamo ti rigiro la domanda a te tu riponi rimetti le basi su una trilogia con Ray protagonista io sì dipende tutto dalla gestione io io non mi sento neanche di dirti no perché semplicemente non lo so cioè non la questione siamo in un punto così labirintico nel vuoto persi nel vuoto che non c'è né una accezione negativa o positiva ed è forse lo stato peggiore perché secondo me guarda voglio dire una cattiveria per me il fandom di Star Wars o comunque gli appassionati di Star Wars stanno vivendo un momento di apatia passionale verso il verso il il brand secondo me c'è nostalgia mi sta al basta oppure a questa positività ottimismo che viene spesso poi delusa da tanti progetti che non vanno minimamente come vanno ad andare penso a Kenobi penso a cosa accade con Kenobi ma ti dico il mio punto di vista io sono il primo ad essere incredibilmente disilluso nei riguardi dei nel riguardo dei progetti ambientati nella galassia lontana lontana ma parte della mia apatia come tu dici deriva anche dal finale perché fino a prova contraria stanno ambientando tanti film nel passato ma il finale della saga è quello lì tutta la costruzione puoi parlare di quello che vuoi di Andor del Mandaloriano va bene ma il finale della storia è episodio 9 quindi a me piacerebbe vedere un altro finale mi piacerebbe vedere che l'ordine Jedi è stato ristabilito non a caso comunque hanno creato questo nuovo periodo temporale che si chiama nuovo ordine Jedi quindi se tu dovessi farmi vedere un episodio 10 con si cerei perché è diventata la nuova protagonista piaccio o meno ma c'è un nuovo ordine Jedi vitale pimpante che è imparato dagli errori del passato quindi possono scopare per dirne una non sono più intruppati rigidi tristi spenti come li voleva George Lucas ma sono dei personaggi che veramente lottano per il bene di tutti che non hanno giochettini politici a cui badare no no loro sono i difensori della pace e della giustizia e devono difendere la galassia da nemici mai visti prima e non sempre quella merda di Sith che ci hanno triturato due quarti di minchia ma qualcosa come all'epoca nei romanzi del Legends che ne so arrivano gli Yuuzhan Vong arriva un nemico da un'altra galassia quello mi piacerebbe non è tanto un film su Rey io non l'interpreto così io l'interpreto come una possibilità di salvare la baracca a livello concettuale cioè che che tutta quella depressione che abbiamo dovuto sorbirci con episodio 7 8 9 sia servita a qualcosa io quello voglio che la storia di Star Wars serva a qualcosa perché per com'è imbastita adesso non è servita a niente a niente è servita le sofferenze patite dai personaggi della vecchia trilogia sono state del tutto vane Anakin Skywalker non è servito a una minchia quello che ha fatto lui il prescelto non è servito a niente zero zero una cosa aveva fatto ammazzare Palpatine è ancora vivo quello lì è ancora vivo è così hai detto bene hai detto benissimo quindi io episodio 10 11 12 li vorrei per quello per reinstaurare il senso generale della saga che è una cosa difficilissima ma almeno apprezzerei il tentativo perché tanto allora stavo per dire peggio di così in realtà al peggio non c'è mai fine però è veramente dura è veramente dura quantomeno abbiamo il vantaggio che dei nuovi personaggi non ci interessa poi così tanto quindi se in episodio 10 c'è Rey che muore su uno scoglio vabbè è morta sullo scoglio sì effettivamente sai cosa non hai detto una cavolata perché loro hanno un grande assist loro non devono più parlare al fandom purista che rompe le palle davvero pure per la virgola perché non c'è più o se c'è non ha più alcun legame con quello che è lo stato attuale del brand Star Wars che cosa possono fare dopo che hanno umiliato Luke Skywalker dopo che hanno fatto quel disastro e tanto e tanto altro a cosa si possono attaccare con prodotti del passato vedi che i nobi ma se vanno avanti e sconquassano mettono che ne so Rey come non lo so fondatrice del nuovo ordine Jedi che sta su una montagna e gestisce 50 Jedi in tutta la galassia operativa a chi dà fastidio ormai quindi loro hanno un grande vantaggio su questo aspetto loro non hanno più un confronto quello che c'è stato con l'ultima trilogia 7, 8 e 9 loro vivono costantemente con un confronto con i vecchi personaggi che ancora erano presenti poi che li hanno messi la parte in un modo becero mettiamo un pelo pietoso diciamo però non c'è più adesso che dimmi un purista dove può rompere le palle a un nuovo progetto di Star Wars un nuovo non qualcosa del passato spin off o altro qualcosa che non c'è che va avanti non che va indietro che racconta vecchie quindi loro hanno un grande vantaggio su questo se trovano la giusta alchimia in qualcuno di un minimo intelligente o meglio semplice coerenza io non potrò mai comprendere perché magari tu lo sai questo in una trilogia ci sia stato un avvicendamento di registi per dire già una già quella è una boiata grande quanto una cosa perché fai capire che sei un idiota su quell'aspetto e quindi basta tutto qua però leggo in chat Alcolet ragazzi è roba del passato io parlo del vantaggio del futuro roba che che cosa vuoi dire non c'hanno più niente tanto quindi basta è fino a tutto in senso negativo o positivo sarebbe un nuovo inizio quindi e new beginning e allora anche il titolo è vero no 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 però in senso te la puoi giocare in ogni modo ma infatti poi ovviamente solo teoria ma in chat leggevo no potrebbero mettere Darth Plagueis basta ragazzi basta basta guardiamo in avanti basta nuove minacce nuovi personaggi mai visti prima un nuovo ordine Jedi basta Sith sono morti basta altrimenti Anakina a che cazzo servito che già è inutile adesso basta oh ma ma non sarà un caso che nel Legends che è andato avanti decenni a un certo punto allora dopo episodio 6 è arrivato Timothy Zahn e non possiamo mettere un altro Darth Vader mettiamo un ammiraglio dell'impero che fa dell'intelligenza la tua arma e che non ha a che fare con la forza e ha funzionato non sarà un caso che dopo i vari generali dell'impero qualcuno se ne sia uscito dicendo ci inventiamo una razza aliena che proviene veramente dalle zone più remote e a cui la forza non fa un baffo sono immuni vero sarebbe figata fuori una saga lunghissima ma non ci vuole tanto hanno le soluzioni a portata di mano ma chi se ne fotte di Darth Plagueis ma basta novità 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 altrimenti poi si continua a fare il giro come del rumor si continua a riflettere su se stessi all'infinito e non si aprono le porte a nuovo pubblico a nuovi spettatori basta ho finito tu basta guarda che l'ho passato Star Wars episodio 10 un nuovo ordine Jedi buttata lì oppure tra giochi tipo New Order Jedi utilizzi il fatto nuovo ordine Jedi cioè fai capire che c'è proprio un punto zero dove si riparte per tutti infatti per me il titolo perfetto sarebbe quello Star Wars episodio 10 New Jedi Order non è che ti devi inventare chissà che roba hai diciamo un personaggio che diventa subito un po' fulcro ossia la fondatrice e poi crei crei nuovi personaggi per le nuove generazioni infatti al dodicenne ora sto per dire una cosa vi prego non mi uccidete i fan di Star Wars anche io sono un fan che minchia gliene frega di lei a tutti gli altri che gliene frega al nuovo dodicenne che non sa manco che esistono quelle cose le recupera su Disney Plus o se fanno qualche rassegna qualche kermess devono innamorarsi di un nuovo Jedi di una nuova principessa di un nuovo non so robot che cacchio ne so qualcosa di nuovo che parli a loro questo è l'altro io perché ogni volta mi scanno con alcuni amici che sono dei puristi di Star Wars alle nuove generazioni non gliene frega nulla di quelle cose dei film degli anni 70 80 non gliene frega nulla se non c'è un genitore un parente una cosa non c'è trasmissione ragazzi punto è quello perché chiudo è stato il grande delitto di episodio 7 8 e 9 hanno perso la nuova generazione perché non c'è stato il passaggio padre figlio non c'è stato perché il padre era incazzato come una biscia è così è così se sei incazzato come una biscia a tuo figlio o tua figlia o un parente non gli parli di Star Wars perché sei incazzato ne parli con i tuoi amici che schifo che schifo vergogna che schifo che schifo bruciasse Lucas Disney muoiono tutti magari c'è accanto il bambino fa forse vado a vedere i film della Marvel in quel momento storico è così e hai perso una nuova generazione fino a un certo punto perché adesso fa schifo anche quella a quanto pare ti parlo così però infatti è questa tutto qua poi io che mi devo dire adesso arrivo immagino dopo che ho detto queste cose vergogna immagino proprio così mo capirai ma figurati bene dai alla fine abbiamo parlato di Star Wars in generale non tanto del in sé e va benissimo così va benissimo in questo modo bene bene è stato molto interessante vediamo se poi avremo ragione però è per quello che io tutto sommato sono positivo nei riguardi di un progetto simile mentre di The Mandalorian non me ne può fregar di meno ve lo garantisco non me ne frega niente ma niente e anche quello famigerato di Mangold sulla prima persona che ha scoperto l'utilizzo della forza boh boh non so proprio non so proprio qual è la fascinazione ora Grazie a tutti.